Ben trovati cari produttivi, in questo video vedremo come si fa la copertura delle serre metalliche questa qui dietro di me l'abbiamo coperta qualche giorno fa, si vede ancora la plastica sembra vetro bene, prima di cominciare ovviamente di vedere come si fa e come non si fa iscrivetevi, guardate i link in descrizione, i video consigliati e andate a vedere il blog, mi raccomando allora vi spiego cosa abbiamo fatto perché sono state coperte di notte, ho fatto dei video però giustamente di giorno si vede meglio, quindi andiamo a vedere da dove si inizia si inizia dalle finestre, queste sono le finestre, le finestre si mettono per prime e si vanno ad agganciare nell'avvolgitelo questo è quello esterno, vedete ci sono degli appositi gancetti chiamati clip questo è quello per i tirateli grandi diciamo e poi ci sono quelli più piccolini, stessa forma, un po' più questo è da un pollice, poi c'è quello da tre quarti di pollice per le avvolgimantella perfetto, si mettono tutte le finestre, noi le chiamiamo mantelle, ecco così evitiamo questo finestre, le mantelline vengono chiamate, perfetto poi cosa si fa? si va a tirare il telo di plastica, quello principale del tetto in questo caso le nostre serre sono abbastanza semplici, però sono a tre arcate ecco viene detto, tre campate, ma tre arcate bene, viene tirato uno alla volta, il telo lì sopra chiuso e poi si apre quando arriva insomma in tutte e due le parti di testa viene tagliato più o meno su misura e poi fai come va a tirare i tipi di testa e poi si metto un po' più dopo che viene aperto si aggancia nella parte interna dove c'è un altro tiratelo qui si vede la parte finale dove c'è il cricchetto questo è il cricchetto quello che c'è uno ovviamente nella testa superiore della serra e uno in quella inferiore questo serve per appunto si chiama avvolgitelo tiratelo serve per mettere in tensione il telo di plastica benissimo quindi vengono agganciati prima nella parte di solito si fa prima nella parte esterna quella che abbiamo visto poco fa e poi in quella interna gli avvolgitelo interni e poi appunto vengono tirati sempre prima di pancia si lavora si lavora prima nella pancia della serra nel tiratelo quello centrale diciamo in quelli centrali e ce ne sono due ovviamente uno qua e uno lì nell'altra campata qui i teli vanno agganciati contemporaneamente in pratica insieme si regola la la distanza e vengono agganciati insieme così quando si avvolge si avvolge col cricchetto vengono uniformi insomma vengono messi in tensione uniformemente oh oh Vai! Buona! Viamo! viene fatto questo lavoro per finire proprio la parte finale si aggancia questo qui di di testa vedete se vengono fatte queste pieghe appositamente alla plastica perché giustamente è curvo la testata è curva curveggiante vengono applicate queste proprio dove ci sono i gancetti i clip vedete c'è il clip viene piegata leggermente la plastica e messo il clip per consentire poi a questo tiratelo tirateli tiratelo insomma di mettere in pressione bene tutta la parte di testa allora non è più difficile da spiegare che da fare bene poi alla fine insomma si tirando anche la parte di testa il tetto viene bello se vedete la plastica è molto tirata ma si è che entra nelle arcate come diciamo noi così perfetto poi alla fine si agganciano le le finestre le famose mantelline questo qui si aggancia anche a questo questo è la volgi mantella è più sottile rispetto all'altro infatti ci sono dei clip più piccolini si aggancia questo e vabbè questo non deve stare a pressione questo qui poi c'è la la maniglia per tirare su o tirare giù le le finestre benissimo tutto qua niente di difficile